Musica E cari amici siamo qui alla Vogue Fashion Night Out di Milano Io e Umberto Io sono Morrigan, lui è il Paonetta Partiamo dal Blanco Caffè qua in Piazzetta Liberty Di fronte ovviamente al Ferrari Store E adesso andiamo a fare un paligativo Tutte le nostre ragazze sono qui, abbiamo anche le ballerine Loro vestite da Diamond Louis Hall E saranno loro le nostre perle Quindi partiamo sfilate Sono tutte quante creazioni uniche Quindi quale migliore occasione della Vogue Fashion Night Out Per fare tutto questo E direi che possiamo andare Emma Andiamo It's time to go Stiamo passando qui alla Vogue Fashion Night Out a Milano Siamo alla ricerca del primo personaggio Sentite in lontananza Umberto che fa Aspetta aspetta perché si è messo a fare il vigile Perché lui stasera cercherà in qualche modo di codiubare dietro Intanto saluto Nikos il mio operatore che sta dilaniando proprio in due Cioè sta aprendo La gente io sono sempre alla ricerca della prima Chi sarà il primo intervistato Intervistato Barra intervistata di stasera Mi guardo in giro E lo sto per cercare Lo sto per cercare Vediamo chi mai sarà Eccoci qua Buonasera Buonasera Siamo in diretta Perfetto Siamo con Ah io Tania Sì scusa Vai avanti Questo è l'alcol Ecco Tania hai visto tutte le vetrine? Non tutte Perfetto Ti piace la nuova creazione di Sì Una cosa molto bella Hai visto un avvenimento così importante a Milano Ecco uno stile molto particolare Ecco ti vesti sempre così o solo quando c'è festa? Sempre così Cosa ti piace di questa Vogue Fashion Night Out? Eh un po' tutto Tutto in che senso? Tanta gente Milano piena Negozi aperti fino tardi Alcol gratis Sì Perfetto Vuoi fare un saluto agli amici per la Vogue Fashion Night Out? Ciao a tutti Questa sapeva anche la sfilata di io non sfilo Qui con me abbiamo due fanciulle Abbiamo Elena Elena eh? Eleonora Cioè proprio Ele Ele Quindi non puoi neanche prendere con il diminuitivo diciamo Va Allora Guarda quanta gente si ferma se tu accendi una telecamera Che effetto ti fa a stare qui a Milano stasera? Beh ma è troppo Piace perché il Milano oggi stasera è proprio bellissimo Ha l'effetto proprio stupendo Splendido E direi che la nostra sfilata I nostri ragazzi oggi proprio sono stupendi E penso che a tutti i genti che si fermano Adesso piacerà E saranno proprio convinti che il nuovo stilista è proprio bravissimo Invece la Mora La Mora che guarda quanta gente Più vicino Ecco la Mora Cosa pensi di questa sfilata stasera? Beh le ragazze sono proprio belle La gente le guarda sicuramente Anche i vestiti Anche la sfilata in sé Lo stilista è stato proprio bravo Tu sei stato scelto Sei stato nominato Quando vedono Topa vieni qua Sei italiano intanto No Spagnolo Esatto Parla città Spagnolo Grazie Tutti Tutti Qual è il tuo nome? Pol Il mio nome è Pol Da dove vieni? Argentino Argentina Argentino Perché sei qui in Milano oggi? Vagazioni Una settimana Solo una settimana La settimana fai Sei qui per la settimana fai Casualità Sì Sì Non è casualità Ci sono molti ragazzi Questa settimana E cosa pensi di questo? Questa settimana notte qui a Milano? Incredibile Eh Tuttavia Tuttavia Molte grazie Ragazzi Prima Botta di culo clamorosa Perché sei qua stasera? Sono qua per l'alcol E grazie Beve gratis Beve gratis Tu invece Io per vedere le nuove collezioni Mi interessano molto Le collezioni di cosa? Tipo Dolce Gabbana Prata L'hai vista l'ultima collezione di Io non sfido? Sì Io non sfido? Certo Esatto Ti piaciuta? Non lo so Non mi convincevano i colori In realtà Prima come mai siete qui stasera? Stiamo guardando un po' la Vogue Fashion Night Ti piace? Sì Perfetto A te Jessica piace? Certo Io studio moda Tu hai visto la nuova collezione di Io non ossicio? Sì Ti è piaciuta? Certo Perfetto Tu invece? Sono un ingegnere meccanico E' un di motte perché un cazzo proprio Cosa ti piace di più di questa Vogue Fashion Night Out stasera? C'è tanta gente Molta allegria L'aria di festa Diciamolo che c'è molto alcol Tu ne hai bevuto? Abbastanza Dove si prende? Dove si prende che Noi questa sera Oltre a cazzeggiare Abbiamo uno stilista con noi Uno stilista giovane emergente Si chiama Diamond Louison È Diamond Louison appunto Complimenti Le stavo notando prima A parte bellissime Però anche i vestiti si fanno notare Bravissimo I vestiti bellissimi Le modelle anche Questo dice molto perché comunque valorizzano molto bene i vestiti E gli auguro una buona fortuna Ringraziamo Jessica E basta dire che possiamo proseguire Carlotta Claudia Claudia Carlotta Da dove arrivate? Da Pisa Siete qua per la Vogue Fashion Night Out? No purtroppo Era meglio guarda Siamo qui per lavorare Che lavoro fate? Facciamo le modelle Non si vede? Wow Quindi siete qua a Milano per lavoro Ma vi siete infilate in questa cosa qua Sapevate che c'era? Si lo sapevamo Come la vedete? Cosa vi sembra? La volete anche a Pisa? Volevo anche a Pisa A Firenze si A Pisa no Perché? Cattiveria è vero E i vestiti che avete visto di lì vi piacciono? Sono bellissimi Un po' trasparenti ma bellissimi Salute a tutti Saluta quel pirla di Nikos Ciao Nikos No No Siamo a Milano Quindi saluta quel pirla di Nikos Ciao pirla di Nikos Bene Grazie mille ragazze Adesso la nostra Elina Ci ha portato Una ragazza Diciamo che arriva da lontano Ok Ferme Piano Wait Vanno troppo veloce Ok Lei è ucraina Che viene Tu adicuna Priechala Siamo a Milano Più vicina Più vicina Più vicina Più vicina Della nostra capitale Della Kiev Cosa ti nazivasi? Mi chiamo Noa Si chiama Noe Ciao Noe Benvenuta Ok Come mai sei a Milano Cosa ci fai qua? E lei E come potremmo Testa prieghola Dlè c'ho Piacimo My priesli Na buying My U nas Es Magazine E My Delaem buying So My Priejejam Showroom My Pocupay My Come Eta Nasa Ostana Cell E Cones Vizienio Che My Poc Fashion Night Milano Allora, praticamente lei ha detto che comunque lavora qua, come compra tutti i marchi, i negozi, fa il showroom, che poi tutti questi marchi vende nella Ucraina e la seconda cosa è per il divertimento, per vedere Milano e poi lei è troppo felice che comunque quando è arrivata qua l'ha trovato quello Fashion Night che, cioè, gli piace. Perfetto, complimenti per il lavoro che fai, grazie per i complimenti alla Vogue Fashion Night e complimenti anche a te che comunque sta sempre bene. Grazie, ciao, grazie, grazie, guarda loro, fai ciao con la mano. Amici della Vogue Fashion Night, siamo qui, siamo con due amici, siamo con, Jacopo e con, Elena, sono una coppia, ecco, come vive la coppia, una giovane coppia, la Vogue Fashion Night Out? Eh, facciamo un giro, sai, c'è molta bella gente, è molto bello, è pieno e ci divertiamo, facciamo un giro. Perfetto, da donna invece cos'è che ti è piaciuto di più? I negozi, la gente, non me l'aspettavo come quest'anno, l'anno scorso mi sembrava che c'era molta meno gente, comunque è un bel evento. Quindi è un evento che sta andando molto molto bene. Ecco, un'ultimissima, la cosa che vi piace di più o la cosa che cambiereste alla Vogue Fashion Night Out? Ma non cambierei niente, visto il successo di quest'anno, assolutamente dieci elode. Perfetto, tu invece? Ma comunque il fatto dei VIP nei negozi porta molta gente, quindi no, neanche io non cambierei sicuramente niente. Esatto, un consiglio per andare poi in qualche locale subito dopo? Ma stasera al The Club sarà una serata pazzesca, quindi noi saremo tutti là. Perfetto, quindi continuate a seguirci e venite con noi al The Club più tardi. Ciao! Proseguiamo con la nostra rottura di balla alla gente, adesso abbiamo fermato altri due ospiti della Vogue Fashion Night. Nomi? Michele. Zack. Cosa ci fate qua alla Vogue Fashion Night? Bella domanda. No, facciamo un giro per vedere un attimino le collezioni e poi per vedere un po' di gente, per stare in mezzo alla gente. Da dove arrivate? Milano. Ah, ma siete milanese? No, però lui no. Però dove arrivi? Da Londra. Quando c'è Vogue Fashion Night è più vivace, più belle cose, anche qua è bello, però è un po' più soft qua. E come mai da Londra qua? No, perché faccio fashion styling e sono un modello, faccio come si chiama anche ballerino e mi piace la moda, allora dove c'è la moda ci sono anch'io, allora ho interessato a venire anche a Milano perché adoro Milano. Ottimo, fai proprio tutto, quindi guarda, ti rubo un secondo, ti chiedo un parere, vedi che là nell'angolo ci sono delle ragazze vestite un po' particolari. Vince, mi porti avanti una ragazza a caso delle nostre carissime modelle? Abbiamo scritturato questo stilista, giovane stilista italiano, si chiama Diamond Luison, che fa questi abiti senza particolari, pezzi unici tutti quanti cuciti a mano e cosa ne pensi? Guarda lei. Beh, è un abito fantastico, veramente fantastico, la collana mi piace perché è tutto bello correlato, ha un corpo meraviglioso, senza dubbio, mi piace proprio il ricamato, il modo che ha fatto, il compagliere, tutto, è un fantastico, questo stilista secondo me è un fantastico, può andare avanti. Te cosa dici invece di questo stilista? Beh, è particolare, sicuramente ha uno stile un po' diverso da altri e sono pochi secondo me quelli che riescono ad osare, soprattutto non tanto per la donna ma per l'uomo, perché l'uomo fanno tutti un po' delle cose abbastanza molto simili. Esatto, sì, l'uomo vestirsi del compasticista, altrimenti non c'è un cazzo. Comunque vi facciamo una carambata da Emon Luison, è qui! Lui è lo stilista di questi abiti, ti sei preso un sacco di complimenti senza neanche essere in scena, pensa un po' che roba. Abbiamo anche una domanda, secondo me è un po' di gossip dalla nostra Eleonora al buon Michele. Voglio togliermi uno sfizio, posso tirarti un pizzetto? È vero. Io ringrazio i nostri amici che vogliono andare avanti a gustarsi la Vogue Fashion Night, ringrazio come sempre Daemon per continuare a farsi sballottare a sua sinistra. Direi che, ragazzi, buona serata, grazie mille. Grazie a voi. Di dove sei? Nel Trentino, lago di Garda. Perfetto. Ecco, volevo chiamare, perché vi siete offensi? Perché hai chiamato la mia amica là e noi, proprio, non ci hai calcolato. Esatto, siamo con... Giulia. Da dove arrivi? Firenze. Sei qua apposta per la Vogue Fashion Night o... Sì. Gloria, è la mia macchina. Siamo arrivati alla fine, l'orario è abbastanza tardo, massacrante. Ringraziamo i protagonisti di questa serata. Partiamo dalle nostre volontarie che si sono offerte per dare in giro ai nostri viviantini. Grazie a... Elena. Elianora. E adesso le ragazze vestite invece dall'ottimo Diamond Loison. Partiamo... Dalla più disgraziata del gruppo. Veronica. Poi, lei che è giovane e piccina. Jasmine. Della nostra. Jasmine. Ringraziamo Jasmine col piercing alla lingua. Ecco perché non voleva urlare. Poi c'è la nonna. Alessandra. Giulia. Moemi. Moemi. Victoria. Lei è Miss Fotoportale 2013, quindi non ringraziamola. Francesca. E lui è il creatore di queste opere d'arte, quindi grazie. Grazie mille a voi di averci seguito, di aver passato questa serata assieme a noi. E grazie mille a Diamo Loison. Io sono Morrigan, quel pirla di prima era Emanuele Polessa. Ciao ragazzi e buonanotte a tutti. Grazie mille a tutti.